Oggi il Signore ci presenta la carta costituzionale del suo regno e comincia a condirci chi è membro del suo regno, quali sono le condizioni per poter essere parte del suo regno. Cittadini del suo regno sono i poveri, i poveri. Cominciamo subito a precitare il concetto perché solitamente si confonde, si unisce insieme poveri e denaro, povertà e denaro, mentre invece tante volte non ha nulla a che vedere la povertà di spirito con il denaro. È talmente vero che ci sono delle persone che sono vissute in un ambiente tutt'altro che povero, che erano poverissimi secondo lo spirito e gente che è vissuta in un atteggiamento di indigenza che non erano poveri. Fatto a pensare, Voitiua, grande santo, non ha lasciato niente, viveva in una reggia, nel Vaticano era una reggia. La madre Teresa di Calcutta viveva tra i baraccati, tra i baraccati. Ma possiamo portare tanti altri esempi che io conosco di persone anche molto denarose che vivevano in una vera povertà spirituale. Ma chi sono i poveri in spirito? Chi sono? Poveri in spirito sono coloro che sanno e sentono di difendere da Dio, che Dio è tutto e loro sono niente e che tutto quello che hanno gli è donato da Dio, perché il loro atteggiamento è un atteggiamento di gratitudine e di note. Povero il spirito è colui che sa che dipende in tutto da Dio, non è indipendente, indipendente, è un dipendente da Dio. E guardate, non è il caso di prendere come esempi queste o altre persone, perché potremmo cadere anche negli equivoci, come diremo, ma gli esempi, gli unici esempi veri, autentici, a cui tutti si rifanno di povertà sono Gesù, Maria e la Sacra Famiglia, la famiglia di Nazareth. Gesù è vissuto poverissimo, non nella miseria, perché? Perché non possedeva niente, soprattutto non possedeva la sua volontà, non possedeva la parola che diceva, era tutto del Padre, faceva tutto quello che voleva il Padre. Maria addirittura ha avuto il coraggio di dire tutte le generazioni mi chiameranno beata, per cui Maria è il modello di povertà e di umiltà, perché dipende da Dio, assolutamente da Dio. Guardate che la povertà, soltanto arraventarla, fa paura. Anche se i frati e le monache professano la povertà, a nessuno penserebbe di augurare, ti auguro una grande povertà a te, no. La povertà fa paura, perché la povertà ci richiama la miseria, però quando vediamo la povertà realizzata allora è bellissima. Chi è che non vorrebbe essere Francesco D'Assisi? Chi è che non vorrebbe essere Teresa di Calcutta? Perché? Perché la povertà è la parola di Dio incarnata, è la vera povertà di spirito realizzata. Per cui oggi abbiamo appreso dal Signore direttamente che i membri del Regno di Dio sono i poveri e soltanto i poveri e dobbiamo desiderare di essere poveri della vera povertà di spirito, sentire profondamente una dipendenza da Dio e vivere di gratitudine nei Suoi confronti. Buona domenica.